Le aziende sono alla ricerca di un numero sempre particolarmente rilevante di addetti specializzati nella lavorazione del cuoio delle pelli e delle calzature. In Toscana, nel trimestre maggio-luglio 2024, le aziende prevedono assunzioni di 1.360 addetti. Ad elineare questo scenario è il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Union Camera e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i cui dati, estrapolati sulla base delle esigenze del settore, sono stati confermati dagli espositori di Expo Riva Schuhn & Garda Beggs, in corso di svolgimento al quartiere fieristico di Riva del Garda. Analizzando la situazione della Toscana, la richiesta più consistente di addetti nel settore preso in esame proviene dalle imprese della provincia di Firenze, con un'incidenza sul totale delle previsioni di assunzioni pari a 44,1%, seguita dalle province di Pisa 28%, Prato 9,9%, Arezzo 9,6% e Siena 8,4%. Le aziende più numerose che hanno manifestato l'intenzione di assumere personale hanno una dimensione che varia tra i 10 e i 49 addetti, pari a 51,9%, mentre le aziende più piccole, ovvero quelle fino a 9 addetti, sono il 16,6%. Il 24,5% delle assunzioni sono previste dalle aziende più grandi, ovvero quelle tra i 50 e i 249 addetti. Infine, le assunzioni dalle aziende con oltre 250 addetti sono previste dal 7% delle imprese.